ciao ragazzi bentornati sul canale oggi giornata piovosa dalle mie parti quindi che fare facciamo un bel video ai miei iscritti così saluto e do il benvenuto ai nuovi e ringrazio come sempre tutti quanti allora oggi parliamo di una mini smerigliatrice della bosch professional la linea braceless di questa linea nello specifico è il modello gws 12v e i vols che l'alimentano e 76 e il diametro del disco che li alloggia che esso alloggia quei dischi come questo spessore un millimetro un millimetro qualcosa e il diametro di alloggiamento 10 mm un centimetro quindi andiamo avanti è un prodotto che ho comprato solo corpo perché avevo già la batteria quando ho fatto la recensione del trapano bosch sempre della linea professional da 12 volts e la lampada bosch anche essa alloggiata con la sua batteria quindi mi è convenuto comprare solo corpo in maniera che potessi usare anche le batterie degli altri utensili perché sono compatibili qui abbiamo una batteria da 12 volts da 2 mili ampere allora andiamo a vederla un po più da vicino nel lato corto misura 10 cm nella parte lunga se si arriva fino a qui 15 compreso di batteria si arriva a 18 allora nella parte superiore abbiamo oltre un ottimo grip e contenuto peso di buona fattura e materiali si vedono si sentono al tatto che sono veramente di qualità abbiamo questo tasto rosso che è spinto in avanti e alloggiato nel suo foro cosa fa mette in automatico i giri di lavorazione praticamente non si firma è un continuo lavorare sono altrimenti dovremmo sempre fare così e dare singoli colpi oltre tutte le diciture raggiunge qui come non so se si legge però l'ho scritto da un'altra parte 19.500 giri al minuto a vuoto a una protezione per quanto riguarda il carter in metallo che questa protezione oltre a proteggere quella di metallo si può ampliare e coprire di più dalle scintille inoltre anche essa questo carter potrà essere spostata come meglio si voglia per i nostri lavori perfetto allora qui abbiamo questa leva rossa che tirata su in questo caso meno male così vi faccio vedere bene non passo completamente non si è sbloccata completamente una volta che ci siamo assicurati che abbiamo tolto la batteria possiamo spostare un po il disco così e continuare a tirare su finché non esce completamente e troviamo fuori questo pirulino questo simboletto a questo punto noi cosa abbiamo fatto abbiamo bloccato il disco e possiamo intervenire con una brugola da 4 togliere questo bullone insieme a questo disco per fare la sostituzione del disco da lavoro nella parte laterale oltre queste prese d'aria abbiamo un piccolo display un display triangolare che si illuminerà di rosso quando ci sarà un'emergenza o qualche cosa che non va nel macchinario più il display che indica la carica della batteria allora noi adesso involontariamente lasciamo su lasciamo sulla la sicura per la sostituzione del disco facciamo che involontariamente stiamo accendendo eccolo la che non parte e ci illumina il disco quindi qui sta a indicare che c'è qualcosa che noi non va quindi la macchinario va controllato ci accorgiamo di questo e possiamo continuare a lavorare vedi ho lavorato singolo ho lavoro continuo perfetto molto silenzioso e veramente affidabile adesso io cambierò inquadratura e farò un paio di tagli uno con il ferro piccoli diametri naturalmente perché mi trovo dentro un appartamento è una con il legno ci vediamo fra un po eccoci qua abbiamo messo un piccolo chiodo di zincato di ferro zincato ma ecco ma giusto per farvi vedere come lavora più che altro non è che potete anche chiedere di più a questa macchinetta mettiamo il blocco partiamo occhiale di protezione come sempre e cominciamo a tagliare molto silenzioso il rumore più che altro era forte perché era il materiale che veniva tagliato quindi che dire adesso sostituisco il disco quello di legno e faremo una prova sul legno come detto prima abbiamo messo la sicura abbiamo tolto la batteria e adesso provvediamo alla sostituzione del disco mettiamo quello adatto per il legno e plastica eccoci qua come dicevo prima la rondella con il suo bullone andrà semplicemente avvitato come le cose più semplici che noi facciamo quotidianamente col nostro fai da te non sto facendo nulla l'unica cosa che tiene bloccato il disco è sempre questa leva rossa sollevata che ci indica che c'è il blocco ecco qua adesso sblocchiamo rimettiamo la batteria e taglieremo il legno due minuti che posiziono tutto e ci vediamo fra un po eccoci qua pronti accendiamo abbiamo come potete vedere c'è e tagliamo eccoci qua questo è il pezzettino di legno semplice niente uno scarto che avevo ma è solo dimostrativo niente di più ragazzi ci vediamo al prossimo video chissà qualcosa un po più divertente vediamo forse la fresa dice proxon chissà